Presentati i dati della diciannovesima edizione dello studio Lega Ambiente dedicato ai comuni virtuosi per raccolta differenziata dei rifiuti, la promessa della regione di creare entro il prossimo anno 12 nuovi impianti di compostaggio conferma la necessità rispetto alla lentezza estrema con cui il sistema migliora in Campania, differenziata alla 55,6 nel 2022 solo più 1% rispetto all'anno precedente. Salerno e Benevento, province virtuose per comuni free, cioè in cui i cittadini producono al massimo 75 kg di rifiuti pro capite all'anno. Nei capoluoghi Benevento e Avellino superano il 65% di differenziata, Salerno è poco sotto la soia, Male Caserta col 54%, Malissimo Napoli col solo 40,4%. Tra i comuni ricicloni 2023 sono tre piccoli comuni della provincia di Avellino ad occupare il podio, Montaguto, Domicella e Cairano. Il dato tiene conto di una differenziata che risulta certificata al 100% per i primi due. Vale a dire che nessun rifiuto proveniente da Montaguto o Domicella risulta in impianti italiani. Cimitile e Ottaviano nella stessa classifica spiccano tra i enti col maggior numero di abitanti rispettivamente collocandosi al quarto e al quinto posto. Bene anche Montesarchio e Apice per il Sannio tra i comuni maggiori. Forchia è il primo tra i piccoli del Beneventano. San Gregorio Magno è primo nella provincia di Salerno tra i piccoli comuni. Bene Sicignano degli Alburni e Fisciano con la sua università. Santa Maria Bico è il primo dei comuni ricicloni in provincia di Caserta. Melito e Pagani sono in fondo alla classifica per i comuni che non differenziano solo il 17 e il 14% rispettivamente ma di molti altri comuni non c'è neppure una certificazione ufficiale. Lega Ambiente si è espressa positivamente in sede di presentazione dei dati per il rinvio della realizzazione della quarta linea dell'inceneritore di Acerra ma gli ambientalisti invocano determinazione per realizzare impianti di riciclo.